Sei pronta? Sono prontissima per raccontare Teramo e soprattutto hai visto che bella questa fontana? I tre leoni? Sono due e non c'è la leonessa perché ce l'ho io e per questo Ma non è vero il leone sei tu Abitanti Teramo, leone e leonessa C'è la leonessa in giro, ma a parte le battute Guarda che questo è un territorio molto molto bello Dobbiamo raccontarlo bene e ci abbiamo poco tempo Quindi andiamo? E voi rimanete incollati al territorio Non proprio incollati che poi Vabbè ci vediamo tra poco Leonessa questa è terribile Grazie a tutti Grazie a tutti